Ciao La disciplina Mi metto io a terra e faccio il mio contorno Non mi piace Sei piccolo Siete Emanuele che gigantesco Che non mi entra ancora nella telecamera Di negro Di colore negro No, tu per sempre sei nero Tu sei razzista Ma perchè? S3 ce l'avevo io Siamo fottuti E salutate perchè già è assai No, se no facciamo di colture Iniziano a pezzi Ti pensi che te sta bianco No eh Lo cancello Oh E' chiuso, non puoi uscire Poi lindo questo posto Andremo con le braccia davantissimo Cazzo ho fatto Eh Che cosa dici? Anche il video non è per questa frase E' il vero Il pitturato di merda Quando l'ho pitturato io Fa schifo il cazzo E' il pitturato di merda Ora io qua come cazzo faccio? Vieni, vieni Ti metti lì e lo fai A pezzi ti butto un sacchino di succhi di sodio Te lo giuro Vai Ah Va bene Stronzo, animale Me lo intingi Me lo fai intingere No, non posso, devi stare a vedere il video No Sto facendo il video? Sto in testa di cazzo Tieni Fede Allora la prima era così Tipo bianco Adesso è così Brown White And brown Perché la maggior parte delle negri In Negronia si chiamano Brown? Eh perché? Eh ma non chiedo Mr. Brown? Perché quando erano piccoli non erano genitori gli mettero un nonno di Brown Eh, perché sono già al telegiornale Come i trovatelli I trovatelli di Messina I trovatelli dopo la guerra Tipo che stavano Messina li chiamavano Messina Quelli che trovavano Milazzo li chiamavano Milazzo Dici? Si, così E tu che cazzo ne sai? La famiglia si Così Invece quelli tipo di Giovanni E' tipo figlio di Giovanni O figlio di Giovanni? Di bella, di così Tipo figlio di Giovanni E dei Caetano? E Calderone? Figlio di Caetano E Calderone? E Calderone? Insomma E Calderone? Vabbè Calderone ha cominciato un mio amico E i Farini forza? I Farini perché erano tutti quanti palettieri Ho visto un sito fantastico Però secondo me tanti amici vi racconto Prada pure a voi Io no Lo racconto Lo ripeto Nooo Tipo dei partiti Dei partiti in America negli anni 10 Scusate Vediamo come lavora 63 Farini Fantastico Vediamo come lavora Chiapare un pavimento tipo costoso Si A macchie Chiapare Questo è ebano Guarda i colpi di pennello che gli è chiamato Guarda i colpi di pennello che gli è chiamato No no questo è il tuo ebano Il co***o è il tuo pennello Dal video sembra bello Il ritmo sessivi la chiave dei ritri tribali Eh se ne aspettavo Vedi che è ebano Non hai capito che è ebano Qua si deve dare una mano Ora guarda Che è scoloroso Qua dai era una botta è scolorosa quel pezzo Eeeh l'Irlanda del nord E spingo io E spingoci E spingoci E ballano Spinti Invece dobbiamo trovare un posto da ziccare sti porcherini E che cazzo vuoi bene Se tipo hai una porcheria tipo qualcosa che strofini Il lucido si leva Hai capito? No ma è lucido per il parquet Beh Campestabile Ho capito che il campestabile è un parquet Però se Deve essere di povere Se tu vuoi vedere lo smalto Perché alla fine il lucido è il smalto Si E vabbè si ripassa più ogni tanto Si ma forte che lo devi passare da Se tu lo passi qua Questo qua sarà sempre più lucido di quello E quindi lo devi passare dappertutto Certo lo passi tutto Allora non si vede bene Però là c'è Emanuele Cade il coloro uguale del pavimento Però è lui vedi Là c'è la testa La schiena I pantaloni Le scarpe Ma tu che fai? Si mimetizza però è lui proprio Schifo umano Emanuele Quella è la luce della finestra Di questa finestra Ma tu pensa a quelli che tra i piettini capelli uno ad uno Veramente Ma mi rispetto che finisci la pittura La dovrei comprare No Per cui coglioni Non deve finire Ah ma abbiamo finito Basta Non c'è Vuota No c'è E allora Non c'erremo fino alla Dai vedi Fino alla La seconda passata Prima passata La Seconda passata Pure là Quindi vedi come è Venta più scuro no? Vai scuro E' più chiaro Quindi io dove dovrei fare WIKO 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 Ha detto bastardo Vado io dove dovrei fare Eh dato c'è proprio La fine della Finestra Lo so che poi quando si asciuga vedremo una pozza Una striscia vuota Sicuramente Lo so Con questo non è da molto Settecentesco 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 Anzi quattrocentesco Rinascimentale Settecentesco 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 Perché è il vino in quella bottiglia? Io non ne bevo una goccia Non lei guarda Salutate Mi sono fermato un attimo Tantino abbiamo fatto questo muro Settecentesco Settecentesco